Ciao da Gennaro Romagnoli di Psicologia Neurolinguistica.net ti do il benvenuto alla diciassettesima puntata del podcast di Psynel o all'audio newsletter di questa settimana. Puntata dedicata alle persone impressionabili e non solo, che desiderano diventare più abili nella gestione delle loro emozioni. Sigla! Da un po' di tempo a questa parte continuo a ricevere questo tipo di domanda. Genna, ma se sono una persona fortemente impressionabile, come faccio a migliorare? Questa è la stessa domanda che mi ha chiesto Chiara la mia compagna. Ora, mettendo da parte tutte le forme patologiche di impressionabilità, sappiamo tutti che esistono persone naturalmente più distaccate dagli eventi forti, emotivamente forti, e persone che al contrario ne restano troppo colpite. Chi fa lavori ad alto rischio conosce bene questa differenza, che a volte può variare in modo incredibile. Prendiamo ad esempio un mio carissimo amico. Fa il pilota di aerei, in macchina va veloce come un pazzo, ma se gli fai un prelievo del sangue sviene. Ok, questo può dipendere anche dal suo equilibrio emodinamico, cioè come reagisce il suo corpo all'estrazione del sangue, ma conoscendolo bene so che è proprio la vista del suo stesso sangue a farlo stare male. Viceversa, magari conosco dottori in grado di amputare una gamba, aprire toraci, ma che non prenderebbero mai un aereo in vita loro. Ti parlo di questa differenza per mostrarti che l'impressionabilità, al contrario di quanto si possa immaginare, può non dipendere dal fatto di essere più o meno coraggiosi o paurosi, ma dipende da alcune abilità cognitive e non cognitive che abbiamo acquisito negli anni. Parlo di abilità quando si utilizza questa poca sensibilità per vivere meglio, diciamolo così. Ovviamente c'è chi, non troppo a posto, non ha paura di niente, in tal senso, ma ti voglio parlare di un'impressionabilità normale, che tutti possiamo possedere. Quindi non hai bisogno di essere uno psicopatico alla Dexter per essere meno impressionabile, giusto per capirci. Prendiamo in esame il termine impressionabile, che è un termine comune, non fa parte della psicologia. È un termine che probabilmente deriva da una metafora fotografica, dove restiamo impressionati come se fossimo una pellicola. Ed infatti è ciò che può accadere al livello delle rappresentazioni, a livello rappresentazionale. Se mi segui sai che ho distinto questi tre livelli, livello sensoriale, rappresentazionale e del pensiero. In altre parole, questa immagine che impressiona si comporta come un mini trauma che si memorizza ad un livello di rappresentazione, cioè sotto forma di immagine, di suono o di sensazione. Quando questi mini traumi riguardano un'area specifica, come ad esempio la vista del sangue, possiamo parlare di impressionabilità specifica. Quando invece un po' tutto ci impressiona, parliamo di impressionabilità generalizzata. Oggi in realtà ci occuperemo della prima più che della seconda. Ora, prima di lavorare su queste due forme di ipersensibilità, metto ancora una volta le mani avanti dicendoti, se questo è davvero un problema per te, nel senso che inficia pesantemente la qualità della tua vita, cioè ti rovina la vita, ti consiglio di parlarne con un professionista, come me. Se invece ti dà solo un po' fastidio, allora puoi svolgere tranquillamente gli esercizi che ti presenterò tra poco. In realtà potresti già iniziarli, anche se hai dei problemi, però ti sconsiglio di farlo, perché con una guida, con la guida di un terapeuta, potrai districare tutta la matassa di nodi, diciamo così, invece che lavorare su singoli nodi. Utilizzando questa metafora, se hai due o tre nodi, puoi lavorarci. Se ti sembra di avere 300 nodi o di non riuscire a contare questi nodi, evita di farlo. La più comune di queste che abbiamo appena visto è l'ipersensibilità, così potremmo chiamarla, specifica, che avviene tipicamente a seguito di un piccolo o grande trauma. Magari mangi qualcosa che ti fa star male a 10 anni e per tutta la vita o quasi ti rifiuti di rimangiarlo, perché magari temi ti farà stare di nuovo male. Quella invece meno comune, ma in realtà molto simile, è l'ipersensibilità generalizzata, in cui siamo mediamente più sensibili degli altri. Dico che ha molte cose in comune con quella specifica, perché la prima può portare alla seconda, ovviamente. Immagina che quel cibo che ti ha fatto male fosse di colore giallo, ad esempio, e all'improvviso inizia a provare ribrezzo per tutte le cose gialle. Questo è un tipico esempio di apprendimento generalizzato. Chi conosce la storia del comportamentismo, della psicologia, del giovane Albert sa perfettamente a cosa mi riferisco. In pratica, Watson, uno dei padri fondatori del comportamentismo, voleva vedere se fosse stato possibile creare una fobia in laboratorio. Così prese un giovane soggetto, un bambino di otto anni, appunto giovane Albert, se non sbaglio doveva avere circa otto anni, ed associò la vista di un coniglio bianco ad un suono molto forte e spiacevole. In poche ripetizioni, il bambino aveva sviluppato una paura nei confronti del coniglio bianco. Ma la cosa che Watson non poteva prevedere era appunto l'effetto di generalizzazione. Infatti, il piccolo Albert si ritrovò ad avere paura di tutte le cose bianche, compreso il colore stesso. Questa storia, così famosa fra noi psicologi, non dovrebbe spaventarti, ma anzi farti comprendere che se una cosa l'hai appresa, puoi anche disimpararla. E infatti pare che il giovane Albert, anche se con qualche problemino, sia riuscito a disimparare la sua fobia. Ed è praticamente ciò che faremo oggi. Ripeteremo il processo di apprendimento, ma al contrario. Per cui, come al solito, bando alle ciance ed iniziamo con l'esercizio. Primo, come prima cosa, ci avvaleremo di una delle tecniche psicologiche che hanno resistito maggiormente al tempo. Si chiama desensibilizzazione sistematica, ma evita di preoccuparti perché è molto molto più facile di quello che tu puoi immaginare. Se conosci ad esempio la PNL, sai già più o meno come funziona. Che consiste in una esposizione graduale all'oggetto a cui siamo ipersensibili. Te lo ripeto, ad una esposizione graduale a quell'oggetto a cui siamo ipersensibili. Secondo, prima di desensibilizzarci, dobbiamo però imparare a centrarci in modo presente rilassato. E come sempre, la cosa migliore da praticare, quella che ormai ti consiglio da anni, è la meditazione mindfulness. E su Psynel ne trovi davvero di ogni tipo. Non solo, questo è l'esercizio principe per la ipersensibilità generalizzata, lo vedremo più tardi. Infatti possiamo vederla come un'estrema tendenza, quella generalizzata, ad identificarci con ciò che ci passa davanti o dentro i nostri pensieri. Meditando, apprendi come disidentificarti e lasciare andare quelle impressioni. Questo esercizio da solo fa quindi già tantissimissimo. Quindi ti consiglio ancora per l'ennesima volta, inizia una pratica di meditazione. Soprattutto se segui Psynel, soprattutto se hai intenzione di migliorarti realmente. Terzo, ora prendi un oggetto specifico su cui pensi di essere troppo sensibile, come ad esempio vedere un film dell'orrore o il prelievo del sangue. Prendilo e crea, con carta e penna, una scala graduale di eventi legati a quell'oggetto. Ad esempio, se si tratta del prelievo, potresti immaginare una persona che fa il prelievo. Magari immaginarla ti dà fastidio su una scala da 1 a 10, diciamo 2. Poi puoi immaginare di vedere un altro braccio mentre fanno un prelievo. Cioè quindi di vedere da più vicino, magari il braccio mentre gli fanno il prelievo. Il braccio non è il tuo e questo ti dà fastidio 5, immaginiamo. E poi vedere proprio il tuo braccio e questo ti dà fastidio 10. Insomma, devi spezzettare l'evento in sotto eventi che siano graduali, da un evento distante che ti impressiona poco fino a quello che ti impressiona maggiormente. Quarto, crea un progetto di esposizione, che è un po' quello che abbiamo iniziato a fare. Cioè, dapprima limitati a meditare e a tirar fuori quegli eventi che hai scritto dal meno forte al più forte. Quindi è una cosa che devi fare nella tua testa, non devi farla dal vivo. In pratica devi associare la meditazione e il rilassamento, cioè quello stato che crei, agli eventi stressanti ma solo nella tua fantasia. Stressanti fra virgolette, potremmo chiamarli impressionanti. Ecco, però è la stessa cosa. Ti metti lì ed inizi a meditare fino a quando senti di essere nello stato più adatto. Tranquillo, calmo e centrato. E poi fai coesistere lo stato di meditazione con quel disagio, cioè con quell'immagine, con l'immagine che avevi scritto, esattamente sul foglio. Fallo in modo graduale, fino a quando riesci a disidentificarti da quei pensieri, cioè a restare in loro compagnia senza farti turbare. Te lo ripeto, restare in loro compagnia senza farti turbare. C'è chi ci mette un sacco di ripetizioni, anche più di 60, e chi molte meno. Fallo valutando la tua impressionabilità su una scala da 1 a 10 e quando ti sembra di poter gestire mentalmente quelle impressioni, passa all'azione. Quindi ti ripeto, prendi il foglio, prendi quell'evento che ti impressiona, spezzettalo in sotto-eventi, crea una scala da quello che ti dà meno fastidio a quello che ti dà più fastidio ed inizia a meditarci sopra, associando lo stato di meditazione a quello stato negativo in modo graduale. Fallo fino a quando ti sembra che, meditandoci sopra, non ti dia alcun fastidio. 5. Esposizione reale. Ora che riesci a gestire mentalmente quei contenuti, inizia a progettare un'esposizione dal vivo. Se ad esempio era il prelievo, inizia a progettare come affrontarlo davvero, con lo stesso principio graduale. Magari vai a vedere qualche prelievo, poi lo prenoti e infine magari vai a farlo. Ricorda che prima devi vincerlo mentalmente. Vincerlo fra virgolette, ci tengo a dirtelo, fra virgolette. Devi accettare la sua presenza senza farti turbare più di tanto. Dopodiché puoi iniziare l'esposizione fisica dove inizia ad affrontare gradualmente quell'oggetto nella realtà. Ti ripeterò la metafora della casa. È un pochettino come se io e te facessimo un party, una festa, e a questa festa decidiamo di invitare, invitiamo, scusami, per sbaglio, una persona che ci sta sulle palle. Abbiamo in questo modo poche scelte. O stiamo lì tutto il tempo ad aspettare, vedere se questa persona davvero romperà le palle durante la festa, oppure semplicemente decidiamo di godercela. Quello che noi cerchiamo di fare con queste immaginazioni, fra virgolette, prima dell'esposizione reale, è quella di stare in compagnia di quell'ospite accettandolo, senza badarlo, o meglio, badandolo ma restando centrati. È in questa posizione riuscire via via ad abituarci sempre di più alla sua presenza. Se questo ospite è davvero un rompipalle, ti assicuro si alzerà dalla festa e se ne andrà via, perché tu non gli darai, diciamo così, materiale per romperti le scatole. Se invece questo ospite in realtà non voleva romperti le scatole, magari alla fine della festa viene da te e ti dice, grazie per avermi invitato, in realtà io volevo dirti A, B, C e D. Ed ecco che è un po' quello che faremo noi, è un po' quello che ti chiedo di fare sia nell'esposizione in realtà mentale, che è il primo step, e sia nell'esposizione reale. Quindi non ti chiedo di debellare completamente l'emozione da te e di far finta che non esista l'oggetto, ma ti chiedo di sopportarlo, fra virgolette, restando in una situazione presente e non giudicante, che è tipica della meditazione mindfulness. Sesto, una volta che ti sembra di aver desensibilizzato quella certa area, cambi oggetto ripetendo i passaggi. Ricorda di fare tutto nel modo più graduale possibile, anche nella scelta degli oggetti eventi che ti impressionano. Oggi possiamo servirci di internet per desensibilizzarci ad un sacco di cose. Ci basta usare YouTube per farlo, ad esempio a molti miei clienti che hanno problemi con la rabbia, cioè non possono vedere ad esempio due persone che litigano, ho consigliato di guardarsi dei dibattiti politici, magari dove fosse presente sgarbi o personaggi del genere. Ok, tutto chiaro? Settimo, per i più pigri che non vogliono apprendere davvero la meditazione, mi dispiace per voi, se fai parte di questi puoi fare l'esercizio con un semplice rilassamento e affrontando l'esposizione mentale in terza persona, cioè guardandoti da fuori come se vedessi te stesso su uno schermo mentre interagisci con quello stimolo impressionante. Questo artificio rappresentazionale, quello della terza posizione, funziona davvero. La PNL ce lo dice da 40 anni, ma non solo, anche altre tecniche di psicoterapia come la Gestalt da cui è nata la PNL, ma solo ultimamente è stato comprovato sperimentalmente. È una dissociazione artificiale che può esserti davvero d'aiuto durante la desensibilizzazione, anche se per risultati duraturi, secondo la mia modesta esperienza, è necessario la meditazione. Ormai non ci puoi fare niente, sono invasato e continuerò a chiederti di meditare. Ricordati che desensibilizzarti non significa in realtà renderti insensibile agli stimoli di un certo tipo, ma significa riuscire ad accettarli, come nella metafora della casa, della festa, per quello che sono, evitando di identificarti con essi. Un duro lavoro che può valere davvero la pena per chi sente di essere molto impressionabile in qualche campo, quindi ti consiglio di farlo e di farmi sapere come è andata. Gli strumenti che abbiamo appena visto sono antichi, ma hanno resistito alla prova del tempo. Anche se le teorie e le applicazioni cambiano, ci sono alcuni assiomi, come quelli comportamentali, che nel campo della psicologia sono pilastri ormai più che assodati. Se pensi di essere impressionabile in qualche campo, fai l'esercizio e fammi sapere i tuoi risultati. Se invece pensi di essere più impressionabile della media ed in modo generalizzato, in assenza di altri problemi, ti consiglio la pratica della mindfulness, che come abbiamo visto è realmente in grado di modificare il nostro modo di percepire il mondo. Ad esempio, chi medita è meno affetto dallo startling effect, cioè quando qualcuno ti spaventa di sorpresa. Se segui Psynel sai che qualche tempo fa ti ho presentato un articolo dove studiavano il cervello di tre tipologie di praticanti nella meditazione. C'erano i neofiti, cioè persone che non avevano mai meditato, poi c'erano persone che avevano più di mille ore di meditazione alle spalle e persone che avevano più di 40.000 ore di meditazione, cioè tutta una vita passata a meditare. Cosa hanno fatto i ricercatori? Hanno buttato un piccolo petardo nella stanza mentre le persone erano lì. Beh, come probabilmente saprai, i ricercatori spesso non sono persone simpatiche. A parte gli scherzi, lanciano questo petardo, i neofiti si spaventano tantissimo. I praticanti medi, quelli con mille ore di pratica, si spaventano ma molto molto meno rispetto ai neofiti e quelli con 40.000 ore di pratica non si spaventano affatto. Il che non significa che non abbiano percepito il pericolo o lo scoppio, ma significa che a livello della corteccia cerebrale che veniva registrata in quel momento la stimolazione era molto 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 più bassa. Questo ci fa un po' comprendere in modo non tanto metaforico ma empirico che realmente la pratica della meditazione può abbassare questa soglia di impressionabilità. Bene, spero con questo semplice esercizio, semplice fra virgolette, semplice da raccontare ma difficile da applicare, di poter aiutare davvero le persone che hanno dei problemi a livello di, fra virgolette, continuiamo a chiamarlo impressionabilità. Come sempre ti invito a farmi le tue domande, a farmi sapere che cosa ne pensi. E quindi tra poco, prima di salutarti, subito dopo lo stacchetto, la rassegna stampa di Psyne. Bene, come sempre partiamo dall'audio newsletter della scorsa settimana dedicata ad un esercizio davvero molto interessante descritto da Sean Hacker nel suo libro di Happiness Advance, cioè il vantaggio di essere felici. Un libro davvero interessante che ti invito a leggere se ti piace la psicologia sperimentale applicata alla vita di tutti i giorni, che loro chiamano psicologia positiva, fra virgolette. Ti invito a leggerlo perché è davvero pieno di molte intuizioni, che in realtà ne ho già parlato qui e là all'interno del blog. Che cosa ci racconta Hacker? Ci racconta di questa piccola regola ambientale, cioè del fatto che il nostro cervello, tendendo a seguire la via più facile, tende ad utilizzare gli oggetti e le cose che sono più vicine a lui in meno di 20 secondi. Cioè se vuoi, ad esempio, imparare a suonare la chitarra, fai in modo che la chitarra sia raggiungibile per te in meno di 20 secondi, cioè mettila proprio lì accanto a te. Ora, ridendo e scherzando, se io allungo una mano, posso toccare una chitarra, giusto per farti l'esempio. Facendo, costruendo e progettando il nostro ambiente in questa modalità, possiamo davvero migliorarci nell'apprendimento di una qualsiasi abilità. E all'interno di questa audio newsletter ti mostro più o meno come costruire questo tuo percorso. Infine, il secondo post della settimana, dedicato alla meditazione, allo stress, a come staccare davvero la spina, restando in equilibrio. Questo post in realtà è un post molto tecnico e allo stesso tempo un po' delirante, che mette a confronto le ricerche delle neuroscienze, che sono una delle pietre miliari di psinel, perché all'interno della psicologia sperimentale ci metto anche le neuroscienze. Vediamo il funzionamento di questa rete di default di cui parliamo da anni e di come in realtà per staccare realmente la spina dei nostri pensieri e rilassarci realmente, cioè quindi davvero staccare quella spina durante le vacanze, durante magari questo breve stacchetto di Pasqua, durante questi ponti, sia necessario un tipo di attenzione particolare. Un tipo di attenzione a cui io e te non siamo abituati in realtà. Sì, perché non basta mettersi lì e non pensare a nulla. E all'interno di questo post vedremo in modo più o meno teorico come funziona il nostro cervello quando dobbiamo realmente staccare la spina. Bene, siamo finalmente giunti alla conclusione di questa diciassettesima puntata del podcast di Psynel. Come puoi vedere su iTunes siamo quasi sempre in cima alle classifiche dei podcast negli ultimi tempi. Non siamo ai primi posti perché abbiamo dei giganti che ultimamente si sono messi a fare podcasting e magari nei prossimi podcast ne parlerò apertamente visto che mi piacciono molto alcuni podcast italiani che stanno emergendo, alcuni un po' meno. Ti invito come sempre, se mi segui da iTunes, se hai questo regalo, fra virgolette, di poter accendere il tuo iPhone o il tuo apparecchio Apple e potermi ascoltare ovunque tu sia, ti invito a votare il podcast e se puoi a mettere una tua recensione a 5 stelle. In questo modo mi aiuterai a diventare sempre più visibile e a condividere questo materiale con le persone a cui ritieni possa essere davvero utile. E ti assicuro, immagino, ci siano molte persone a cui può essere utile diventare meno impressionabili. Quindi come sempre ti invito a scrivermi che cosa ne pensi sul post, ti invito a venire sul blog, a trovarmi, a leggere il post perché solitamente il post non è uguale all'audio che stai ascoltando ma sarà diverso, con altre impressioni completerà questo audio perché prima registro l'audio e dopo scrivo il post. Quindi ti invito a venire sul blog se sei davvero curioso nei riguardi di questo argomento e soprattutto ti invito a farmi sapere com'è andata la desensibilizzazione e se sei riuscito a diventare sempre meno impressionabile. Bene, per questa settimana è davvero tutto. Ti auguro una splendida settimana se mi ascolti nel lunedì o comunque ti auguro una splendida giornata. Un saluto da Gennaro Romagnoli di psicologianeurolinguistica.net Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!